Dottor Questore, una operazione di polizia che vuole essere anche un monito per questi giovani che spacciavano in pieno centro storico sotto gli occhi di tutti? Sì, esattamente. È un'operazione di polizia che era soprattutto finalizzata a restituire piazza-mercato alla gente per bene, alla Foggia per bene, soprattutto ai fruitori di quella piazza che, ripeto, è al centro della città di Foggia e che era utilizzata anche dalla stessa popolazione che lì trascorre molto del suo tempo. Non era possibile che sotto gli occhi delle persone e dei passanti e anche vicino ad obiettivi ritenuti sensibili potesse esserci un'attività di questo genere. Anche tre minorenni? Il che è un brutto segnale perché questi tre minorenni, insieme anche a tutti gli altri che sono stati arrestati, sono soprattutto giovanissimi e quindi questo lascia anche un attimino pensare.